Sapevi che al bar il latte non andrebbe mai scaldato più di una volta e non dovrebbe mai superare la temperatura di 70 gradi? I motivi per cui non bisognerebbe farlo sono tre. Il primo perché portando il latte ad una temperatura di oltre i 70 gradi e unendolo al caffè si crea un composto chiamato tannato di caseina che non è nient'altro che una combinazione dell'acido tannico del caffè con le caseine del latte. Questo composto non è facilmente digeribile. Secondo motivo perché se il latte si continua a scaldare più e più volte si aumenta notevolmente il rischio di una possibile proliferazione batterica. Terzo ed ultimo motivo se il latte raggiunge una temperatura di oltre i 70 gradi la denaturazione delle proteine porta alla creazione di composti volatili che danno sentori molto sgradevoli tipo solforati latte bruciato e uovo. E quindi qual è la soluzione per non far scappare in bagno il cliente una volta che beve il cappuccino? Ecco le tre risposte. Uno scegliere del latte intero fresco di alta qualità che possiamo gestire tranquillamente in frigorifero mi raccomando molto importante ad una temperatura di 4 gradi centigradi. Due dopo aver pulito molto bene l'arancia a vapore e averla fatta sfiatare montare il latte ad una temperatura di circa 55 60 gradi e dopodiché unirlo al caffè per le differenti preparazioni che possono essere cappuccino latte macchiato caffè latte e così via. Terza risposta forse la più importante di tutte evitare gli sprechi quindi riusciamo a fare questo solo se abbiamo una batteria di lattiere che ci permette di montare quella quantità di latte nello specifico per realizzare quel numero definito di bevande quindi non abbiate paura di lavorare con lattiere che vanno dal litro litro e mezzo per i locali alto vendenti che hanno una richiesta incredibile esorbitante di bevande in pochissimo tempo ma non spavettante vi neanche di lavorare con una lattiera da 15 cl per montare il latte per realizzare un espresso macchiato solo così riuscirete a non avere sprechi di latte